salve a tutti ragazzi buon 2023 a tutti io sono z willy x e oggi mostrerò qual è la miglior costruzione carriera per iniziare su gta online per playstation 5 xbox series costruzione carriera che parte quando iniziate il gioco per la prima volta su gta online il gioco vi regalerà inizialmente 4 milioni da spendere tra cui 3 milioni da spendere obbligatoriamente in questa schermata e un milione poi da spendere come preferite ovvero il milione che otterrete quando sponerete in gioco quindi di questi 4 milioni dovete spenderne per forza 3 ora abbiamo quattro scelte il dirigente il trafficante d'armi il proprietario di un nightclub e il biker a prescindere io scarterei nightclub e biker perché richiedono un investimento veramente troppo alto per farci dollari sopra dollari che inizialmente giustamente non avete da spendere quindi opterei o per il dirigente o per il trafficante d'armi io personalmente sceglierei la seconda perché la prima il dirigente ha un business attivo a differenza del secondo che è passivo il che significa che dovrete giocare veramente tantissime missioni oltretutto veramente pallose e ripetitive per fare soldi con questo business da dirigente invece il bunker farà i soldi mentre state anche giocando ad altro una volta scelto il trafficante d'armi consiglio il bunker a chumash perché secondo me ha la miglior posizione sulla mappa dopodiché vi consiglio di scegliere il pacchetto di migliorie a per il bunker perché vi darà il bunker con un potenziamento che inizialmente è costoso da comprare però se scegliete appunto questa opzione già avrete questo potenziamento molto importante che servirà per velocizzare la produzione della merce e fare anche più soldi senza che dovete investire ulteriore denaro quando sponerete per i potenziamenti del bunker tra i veicoli consiglio la turismo classic perché potrà avere le modifiche di ao e vi permetterà di fare le prove a tempo di ao dato che oltretutto quando vi connetterete per la prima volta su gta online il gioco vi regalerà una trasformazione di ao gratuita che vi servirà per fare appunto le sue prove a tempo che pagano 250 mila dollari a settimana mentre le migliori armi da prendere sono queste ora voi direte eh ma willy scegliendo questa carriera io non avrò uno straccio di dollari con iniziare e avete ragione però tranquilli che se giocate li rifarete innanzitutto perché a breve sul canale arriverà una guida che appena sarà online vi lascerò in descrizione su questo video su come fare milioni appena avete creato il personaggio e poi perché punto uno con questa costruzione carriera avrete già un bunker con un potenziamento molto significativo per fare denaro il che significa che non dovete investire denaro per poter guadagnare i soldi con il bunker e non nemmeno giocare perché il bunker praticamente farà tutto per voi quando giocherete online punto due avrete già un veicolo di ao con una sua trasformazione gratuita che tra poco vi mostrerò anche come ottenerla e punto tre avrete già le migliori armi con cui iniziare a giocare a gta online comunque se proprio ci tenete ad avere il milione gratuito anche se lo sconsiglio questa qua invece la costruzione carriera che dovete mettere più adatta per avere il milione gratuito però dovrete rinunciare al potenziamento significativo del vostro bunker e quindi farete molti meno soldi e sicuramente in molto meno tempo fatto questo finite l'introduzione e recatevi al bunker quando siete dentro il bunker fate in modo di avere personale su produzione in modo tale che possiate già velocizzare la produzione della merce del bunker inoltre di tanto in tanto controllate che ci siano delle scorte nel vostro bunker per controllare velocemente se ci sono delle scorte o meno nel vostro bunker quando siete in free mode settate il rientro su bunker di chumash start online trova nuova sessione sessione sola inviti così sponerete dentro il bunker velocemente e potrete subito notare se c'è o meno la barra scorte che servirà per produrre la merce che poi andrete a vendere che vi ricordo che questa merce verrà prodotta semplicemente stando online semplicemente anche giocando ad altro se non c'è o meglio se manca anche un po di barra scorte consiglio appunto di comprarle dal computer perché le missioni scorte sono abbastanza lente da completare comunque se volete una guida molto dettagliata su come funziona il business del bunker vi lascerò il link della guida qua sotto in descrizione in breve come ripetuto anche prima il bunker vi produrrà merce da vendere da soli mentre anche quando state giocando ad altro l'importante è essere online e avere sempre almeno un minimo di barra scorte ora che abbiamo finito con il bunker mettete il rientro sul garage del vostro appartamento che il gioco vi ha regalato e cambiate sessione adesso richiamoci in questo punto della mappa e completiamo la prova di ao una volta completata la prova di ao ci troveremo all'autoraduno praticamente da qui compriamo l'abbonamento che costerà 50 mila dollari portiamo la nostra turismo classic all'officina dell'autoraduno e applichiamogli la trasformazione di ao che il gioco ci ha appena regalato per aver completato la sua prova a tempo fatto questo facciamo la prova a tempo di ao e la prova a tempo normale che ci garantiranno 350 mila dollari potete fare queste due prove a tempo ogni settimana a partire dalla mattina del prossimo giovedì le prove a tempo appunto cambiano di settimana in settimana ogni giovedì mattina per visualizzare quelle della settimana dovete aprire il menu di pausa andare sulla mappa scorrere giù la leggenda con la crocetta e guardare dove si trovano le prove a tempo della settimana sulla mappa in questo caso le abbiamo qua e la prova a tempo normale invece si trova in quest'altro punto della mappa innanzitutto andiamo sulla prova a tempo di ao settiamo il punto avviamo la prova un attimino ma non dovete ovviamente iniziare perché prima dobbiamo capire che strada dobbiamo fare per completare più velocemente la prova quindi mettiamo la x sul cerchietto giallo e in questo modo avrete il percorso da effettuare per completare più velocemente questa prova quindi annulliamo la prova a tempo tenendo premuto triangola e facciamola ripartire per poi ovviamente completarla normalmente quindi rifacciamo la stessa identica cosa con la prova a tempo normale della settimana fatto questo dovreste aver guadagnato 350 mila dollari e credo che in questo momento dovreste avere sui 400 mila dollari e questo è diciamo il miglior modo per iniziare a giocare a gta online su playstation 5 xbox series anche se ci sono tantissime altre cose che vi permetteranno di fare denaro comunque vi porterò una guida dettagliata tra qualche giorno che funzionerà su tutte le piattaforme sia playstation 4 che playstation 5 quindi intonizzatevi sul canale per quella guida comunque già che ci sono piccolo consiglio prima di lasciarvi se create un social club al vostro playstation network o xbox live e mettete la verifica due passaggi sul social club andate appunto fate il login del vostro account comunque se non avete un account social club createlo una volta creato e fatto tutto quanto dal social club del vostro account sul sito andate su impostazioni e verifica a due passaggi quindi settate la verifica due passaggi con tipo quelle applicazioni che sono fatte apposta per salvare gli account con la verifica due passaggi una volta settata la verifica due passaggi sul vostro social club riceverete mezzo milione di dollari entro 72 ore da quando avete messo la verifica due passaggi quindi ci vorranno tre giorni quando avete messo la verifica due passaggi questi 500 mila dollari non arriveranno subito ma dovete aspettare almeno tre giorni da quando avete messo la verifica a due passaggi se volete sapere come fare altri soldi facilmente all'inizio della vostra carriera vi lascerò qua sotto in descrizione la guida su come iniziare a fare milioni su gita online nel 2023 in questo momento ancora non è uscita perché prima ho voluto appunto fare questo piccolo tutorial sulla costruzione carriera per i giocatori di playstation 5 xbox series ma a breve sul canale uscirà la guida appena menzionata non vi preoccupate iscrivetevi attivate la campanellina e saprete quando uscirà non appena uscita metterò il link qua sotto in descrizione quindi niente ragazzi grazie mille per la visione da z will x è tutto noi ci sentiamo al prossimo video